Non mi farò ricattare, il sindaco Antonio De Caro risponde al fuoco amico ed esclude rimpasti a poche ore dalle fibrillazioni nella maggioranza con la migrazione di due consiglieri nel gruppo misto. Giunta ad alta tensione, accolto dalle contestazioni il governatore Emiliano a Taranto per la prima riunione dell'esecutivo. La debole ripresa del mattone, il nostro focus con il presidente vicario dei costruttori varesi Beppe Fragasso che lancia l'appello, si snellisca la burocrazia per salvare le edilizie e l'occupazione. Tra Amarcorda e Tifo Biancorosso il nostro live dalla nuova sede del club La Bari Siamo Noi, all'interno le fotografie che raccontano la storia del Bari. Buonasera in diretta dalla redazione di Telebari, come sempre saremo in vostra compagnia per un'ora per raccontarvi quello che è accaduto oggi nella nostra città e commentarlo con i nostri ospiti. Partiamo dal titolo di apertura, lo avete sentito. Il sindaco Antonio De Caro dice non mi farò ricattare, non ci sarà nessun rimpasto. E' perentorio, il primo cittadino che risponde alle voci che lo vedono in queste ore, vittima del fuoco amico, è sulla migrazione di alcuni pezzi della maggioranza nel gruppo misto. Replica, ascoltare dichiarazioni da chi non si presenta in consiglio. Mi sembra strano, se ne ha lusso. I giornali di oggi titolano la maggioranza perde pezzi, ieri l'abbandono di Laria De Robertis che passa nel gruppo misto e pare, almeno stando alle voci di Corridoio, che sia in forza anche la tenuta del Consiglio sul bilancio. In realtà credo di avere una maggioranza bulgara, non so se ci sono altre città in Italia con una maggioranza così in salda. E' chiaro che dopo le regionali ci sono delle fibrillazioni, non ci sono stati dei passaggi fuori dalla maggioranza, ci sono dei passaggi da un partito ad un altro, da un partito magari al gruppo misto, ma sempre con dichiarazioni di restare all'interno del perimetro della maggioranza. E' normale che ci sono delle fibrillazioni subito dopo, ma anche subito prima delle tornate elettorali, l'ho detto più volte, io sono contento della mia maggioranza, non ho nessun problema. Se ci sono consiglieri che hanno da segnalare dei problemi al Sindaco, alla Giunta, lo possono fare. Bisogna però venire in consiglio, bisogna venire all'Unione di maggioranza, perché ascoltare dichiarazioni da chi non è presente mai in consiglio o non viene all'Unione di maggioranza mi sembra alquanto strano. Secondo alcuni molti premono per un rimpasto, ci sarà? Il rimpasto non ci sarà, l'ho detto più volte, perché ho scelto la squadra, l'ho chiesto quando mi sono candidato di scegliere la squadra e ovviamente non mi farò ricattare da nessuno. Ho detto più volte che sono disponibile anche a tornare a casa e ricandidarmi se è necessario, ma non mi farò ricattare da nessuno. Parliamo invece della Giunta regionale. Accolto dalle contestazioni il governatore Emiliano a Taranto per la prima riunione di Giunta, un gruppo di cittadini espone test triscioni sull'ILVA e sul lavoro che non c'è e poi quando arriva lo accerchi, a un giovane si smarca e cerca di sferrargli un calcio ma non c'è contatto. Il 23enne viene bloccato dalla Digos e poi rilasciato. Questa è la cronaca della giornata di oggi, ma sentiamo le dichiarazioni del governatore Emiliano. Si è trattata di una giornata di lavoro che preluderà ad altre giornate identiche in tutte le province, nelle quali la Giunta e il Presidente, secondo un calendario prefissato, saranno presenti e quindi non sarà più necessaria quella prassi, diciamo abbastanza irrispettosa, di dover chiedere e aspettare un appuntamento da parte della Giunta o da parte del Presidente, salvo ovviamente emergenze e all'inizio di ciascun anno noi faremo un calendario delle presenze della Giunta nelle sedi decentrate delle province. Chiederemo ai Presidenti delle province di predisporre la possibilità di ospitare questi incontri esattamente come ha fatto oggi il Presidente della provincia di Taranto che ringrazio. È la prima volta in tantissimi anni che si comincia con questo metodo, un metodo basato sui rapporti personali ma anche molto istituzionali, quindi molta umanità e molta attenzione alle regole istituzionali. Sono due cose che sembrano contrapposte ma in realtà sono la stessa cosa. Veniamo al processo Escort che ha visto oggi a Bari Sivio Berlusconi citato come testimone e arrivato nel Palazzo di Giustizia di Bari passando da un ingresso laterale per evitare la folla di giornalisti, operatori televisivi e curiosi. Nessun commento da parte dell'ex Cavaliere che ha vietato qualsiasi ripresa e che si è avvalso della facoltà di non rispondere come aveva già preannunciato. Il processo per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento della prostituzione in cui sono imputate sette persone riguarda le feste organizzate tra il 2008 e il 2009 nelle residenze dell'ex Presidente del Consiglio. Intanto Patrizia D'Addario è arrivata nel Palazzo di Giustizia di Bari proprio mentre Sivio Berlusconi se ne andava da un'uscita laterale. Sono arrivata tardi apposta ha detto ai giornalisti all'ingresso perché non volevo incontrarlo. La cronaca incastrati da un'impronta digitale i carabinieri hanno arrestato Vincenzo Doronzo e Michele De Leo entrambi di 36 anni e Lorenzo IV di 44 anni tutti con precedenti penali con l'accusa a vario titolo di rapina gravata in concorso, lesioni personali e sequestro di persona. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il 2 luglio del 2014 i tre più altri complici non ancora identificati pianificarono ed eseguirono una rapina in danno di una coppia di coniugi nel quartiere Libertà. I rapinatori riuscirono ad entrare nell'abitazione della coppia presentandosi in borghese ma mostrando un falso tesserino dell'arma dei carabinieri. Dopo essere entrati nell'appartamento legarono e invavagliarono i due coniugi e il fratello di lei in visita alla coppia. Riss Alcara, un cittadino iraniano di 32 anni, ospite del centro di accoglienza richiedente asilo, è stato accoltellato ad un braccio, ad un fianco, ad una spalla in seguito ad un litigio avvenuto nei pressi del centro richiedente asilo con un altro straniero fuggito dopo l'aggressione. Nel momento di ferito non è in pericolo di vita, sono in corso indagini degli agenti della polizia per individuare l'aggressore. Bene, andiamo al nostro live, oggi in diretta dalla nuova sede dell'associazione del club La Bari Siamo Noi e allora ci colleghiamo subito con Cristian Siciliani, il primo intervento insieme al presidente del Bari Gianluca Paparesta. Cristian, buonasera. Sì, buonasera Alessandra, siamo con il presidente del Bari Gianluca Paparesta, buonasera presidente. Buonasera, buonasera a tutti quanti voi. Presidente, grandissimo entusiasmo qui per l'inaugurazione della nuova Casa Biancorossa. Ma sì, qui traspira l'entusiasmo, la passione dei tifosi biancorossi, ma credo che oggi siano tantissimi, ma saranno ancora di più quando avremo di nuovo un nuovo campionato con tanto entusiasmo, con una squadra che dovrà darci le soddisfazioni che tutti quanti noi auspichiamo. Presidente, non posso non fare una domanda di calciomercato, il nome più chiacchierato in questo momento è quello di Gianluca Sansone, a che punto siamo? Siamo a un punto che aspettiamo di vedere oggi quello che succede, abbiamo fatto tutti i passi che potevamo fare, abbiamo gli accordi con le società, il giocatore sa quanto lo vogliamo, anche lui credo che abbia tanta voglia di venire, se deciderà oggi bene, altrimenti abbiamo anche altre ipotesi per poter valutare anche altri giocatori. Al momento quanta distanza c'è tra le parti? Credo minima. Presidente, per chiudere un ultimo messaggio alla tifoseria, anche in vista poi di questa campagna abbonamenti che sta comunque per decollare. Sì, la campagna abbonamenti è partita, ripeto, ho detto anche oggi qui, non è una campagna abbonamenti costosa, ma è una campagna abbonamenti che ci deve far dimostrare all'Italia intera quanto è il valore di questa società, di questa tifoseria. Io auspico veramente di essere al primo posto nel numero di abbonati, ma non per una questione economica, ma per una questione di rappresentanza di una tifoseria che credo che non abbia uguali da nessuna parte, né in Serie A né in Serie B. Un grazie al Presidente Gianluca Paparesta. Grazie. Abbiamo evidentemente qualche problema di connessione con la nostra regia mobile, intanto ringrazio Cristian Siciliani e il Presidente del Bari Gianluca Paparesta, Cristian Siciliani lo ritroveremo comunque nei prossimi spazi del nostro telegiornale. Intanto andiamo avanti, non ci saranno più brutte sorprese per i fuorisede, sarà online dalla prossima settimana Cerco Alloggio Puglia, il portale che permetterà agli universitari di trovare un appartamento in maniera semplice e sicura. Oggi la firma dell'accordo quadro ce ne parla Barbara Cirillo. Il Politecnico cerca casa per i suoi studenti fuorisede. Sarà attivo dalla settimana prossima il portale Cerco Alloggio, che permetterà a universitari fuorisede d'Erasmus di trovare facilmente un appartamento da prendere in affitto nelle province di Bari, Lecce e Foggia. La cooperativa Puglia Student Service, creatrice del portale già esistente per appartamenti e studenti delle Cese, grazie alla vincita del bando Principi Attivi 2012, ha firmato stamattina un accordo quadro con il Politecnico di Bari e la Disu, che ha finanziato il progetto e che garantisce l'offerta di alloggi pubblici per gli studenti. Secondo i dati forniti dal MIUR, gli studenti universitari in Puglia sono circa 90.000, di cui 30.000 fuorisede, circa 6.000 quelli provenienti da altre regioni o dall'estero, 24.000 invece quelli pugliesi. Sono questi numeri che hanno fatto pensare ad un'urgente regolarizzazione del mercato degli affitti. Grazie al portale, infatti, il team della cooperativa, formata da Under 30, verificherà e farà un sopralluogo nell'appartamento che si vuole affittare. Una volta controllata l'attendibilità della proposta, si potrà inserire l'annuncio online. Il Politecnico si impegna, dal canto suo, a diffondere gli annunci sul portale direttamente sul proprio sito, via mail o all'interno del materiale d'orientamento. Un modo semplice per facilitare la vita dei fuorisede, come ha dichiarato il Rettore del Politecnico di Bari, Eugenio Di Sciascio. Cerchiamo di far facilitare per quanto possibile una vita che è già difficile di per sé e in questo anche, non solo gli studenti fuorisede, ma anche per esempio gli studenti Erasmus che provengono da altre nazioni, favorire la possibilità di trovare un alloggio decente in tempi rapidi utilizzando un minimo di tecnologie telematiche che superino il famoso bigliettino sul muro. Credo che sia una possibilità in più per i nostri studenti. Bene, era il nostro ultimo servizio di questo primo spazio, ma restate con noi perché dopo la pausa pubblicitaria commenteremo i principali fatti di questa giornata con Stefano Costantini, caporedattore di Repubblica Bari. A tra poco. Nel pomeriggio al nord, bel tempo con cieli sereni. Al centro, bel tempo con cieli sereni. Al centro, bel tempo. Emiliano non a caso ha scelto Taranto per iniziare la sua giunta e non a caso ci sono state delle pesanti contestazioni. Ricordiamo che Taranto è diventata una piazza difficile per chiunque perché è una piazza esasperata, una città esasperata dai troppi problemi lasciati irrisolti da troppi governi, non soltanto certo quelli locali ma anche nazionali. Il problema di Taranto è un problema nazionale a cominciare dall'Ilva e quindi quello che abbiamo visto oggi è la... forse Emiliano l'aveva sottovalutato pensando di poter in qualche modo contenere la rabbia che si è creata a Taranto. È successo questo episodio molto brutto, molto spiacevole di un ragazzo che è poi stato denunciato a piede libero e identificato perché ha tentato di colpirlo e questo è il sintomo di un malessere molto profondo che sta degenerando per cui le critiche sono ovviamente lecite, la richiesta delle persone è assolutamente legittima di avere più salute, il lavoro in questo caso chiedevano lavoro le persone che contestavano Emiliano e è chiaro che i modi con cui l'hanno chiesto sono da bocciare, da condannare senza riserve. Però ripeto, è il sintomo di una stagione della politica che fatica a dialogare con le persone normali, con le persone che hanno dei problemi e che vedono la politica un po' troppo distante da quelli che sono le loro aspettative. Tra l'altro Stefano, diciamo che è un'esasperazione nei confronti della politica in generale perché comunque ricordiamo che Emiliano è appena stato eletto quindi non ha ancora dimostrato di sapere o non saper fare, quindi insomma una neutra... Assolutamente, ricordavo che le contestazioni ci sono state a Taranto, precedenza di altri, lo stesso Vendola non andava più a Taranto da un po' perché anche per lui che era il presidente uscente della regione c'erano problemi analoghi e quindi è chiaro che non c'è nulla a che fare con la gestione Emiliano che ancora deve cominciare, era appunto il primo atto della sua giunta e quindi appunto questo è un sintomo del malessere diffuso che a livello nazionale ma a livello anche locale si coglie da questi episodi che racchiudono tutta la rabbia, ripeto, che si è sedimentata a Taranto in particolare ma insomma anche in altre zone della Puglia e non soltanto della Puglia. Infatti si registrano. Allora congeliamo per un attimo la politica, poi torniamo chiaramente anche sulla composizione della giunta per ricollegarci con il nostro Cristian Siciliani, lo ricordo in diretta dalla nuova sede dell'associazione club La Bari Siamo Noi. Cristian. Sì Alessandra, sono con il presidente della Bari Siamo Noi, Franco Spagnuolo. Buonasera Franco. Ciao a tutti. Franco, un piccolo sogno che si realizza possiamo dire, questa casa bianco-rossa con tanti dei cimeli legati alla storia anche del tifo. Sì, dopo un anno dalla nascita dell'associazione finalmente abbiamo trovato casa, una casa di nostra, di tutti i tifosi, di chiunque ha il Bari nel cuore, dove potersi diciamo beare con gli occhi della storia di questa squadra di calcio. Beh, non a caso vediamo anche alle nostre spalle quadri, magliette davvero suggestive. Ti chiedo quali le prossime iniziative però della vostra associazione? Le prossime iniziative sono incontri quindicinali, eventi quindicinali in cui prenderemo ad oggetto una squadra, una partita in particolare, un giocatore in particolare e su questo argomento proietteremo video, vedremo inediti, parleremo di episodi e discuteremo. Franco, a chiudere, come associarsi alla vostra associazione e anche qualche indicazione per gli abbonamenti? Allora, associarsi qui è semplicissimo. Siamo aperti tutti i giorni, dalle ore 10 la macchina alle 13 e poi il pomeriggio dalle 17 alle 21. Si viene qui, documento di identità, ci si associa, ci si iscrive all'associazione per la stagione calcistica, con 5 euro e la quota associativa e si ha una serie di diritti, fra cui lo sconto sull'abbonamento dedicato ai Bari Club, appunto la Formula Club, si partecipa alla vita sociale, si viene invitati ad ogni manifestazione che facciamo. Un grazie a Franco Spagnuolo. Un grazie a tutti voi. Alessandra, a te, a tra poco dalla Casa Biancorossa. Ringraziamo Cristina Siciliani. Stefano, intanto parliamo anche della campagna di abbonamenti, una campagna di abbonamenti formato famiglia per avvicinare ancora di più non solo la tifoseria, ma anche la gente comune e la squadra del cuore, no? Beh, sicuramente è un'iniziativa buona di avvicinare le persone che non siano degli scalmanati, non siano dei violenti, come purtroppo abbiamo visto spesso nei nostri stadi e quindi spero che appunto questo abbia successo, ma tutto è legato ai risultati, perché le persone proprio vanno allo stadio se la squadra funziona, quindi nei momenti in cui è andata bene i tifosi baresi sono stati, sono noti per la loro abnegazione alla squadra, quindi hanno risposto sempre in maniera molto entusiastica e quindi anche con le famiglie, quindi questo credo che sia un buon modo per avvicinare, per far stare insieme le famiglie anche in un posto come lo stadio dove ci si può divertire, insomma in tranquillità, questo è importante, ci deve essere un minimo di spettacolo. Speriamo dunque nel mercato e di mercato si può parlare anche per quel che riguarda la giunta Emiliano, bisogna riempire le tre caselle rimaste orfane dopo il no a suoni di fida da parte delle grilline, quale opzione sceglierà Emiliano? Cioè scorre la gradatoria delle sagre, sagre flop così come sono state definite oppure scegliere l'autonomia senza appunto secondare? Lui ha due strade, una è lasciare la giunta a sette in attesa di poter integrarla, quindi cambiando lo statuto e quindi con il ricorso al mercato esterno, cioè potrendo attingere all'esterno e non soltanto ai consiglieri eletti, oppure può scorrere quella classifica dei dieci nominati da lui stesso e poi scelti, solo i cinque scelti con questa specie di talent molto criticato e anche molto criticabile questa modalità per scegliere gli assessori, quindi scorrendo la classifica potrebbe individuare i tre mancanti, i tre che hanno rifiutato le tre deleghe che le grilline hanno rifiutato e che avevano già rifiutato in partenza e quindi quello di Emiliano è sembrato piuttosto un gesto simbolico, diciamo così, un po' demagogico di volerle per forza coinvolgere nella giunta. Sappiamo, abbiamo capito che alcuni di questi della classifica che dovrebbero poi intervenire, uno tra tutti, che era uno dei nomi d'eccellenza, l'ex prefetto non siante, non ha gradito questa sorta di spettacolarizzazione della scelta politica, quindi della partecipazione del popolo delle sagre alla scelta degli assessori e quindi abbiamo capito che là si sta ricucendo uno strappo, cioè Emiliano sta tentando di recuperare la figura denunziante che sembrava potesse essere utilizzata avendo un'esperienza quarantennale nelle istituzioni come potrebbe essere un ruolo anche di garanzia, quindi si pensava a un assessorato importante o anche alla presidenza del Consiglio regionale che è un ruolo di garanzia evidentemente, ma nella casella della presidenza del Consiglio regionale ha dei competitor molto forti, uno è Loizzo che pare sia quello più favorito al momento, l'altro che abbiamo scritto nei giorni scorsi che si sarebbe in qualche modo affacciato rivendicando un ruolo per le liste civiche che hanno appoggiato Emiliano sarebbe il nome di Alfonso Pisicchio e poi appunto c'è quello anche di Nunziante, oltre alla richiesta, ma quella non verrà evasa, che è quella dei grillini che chiedevano per loro un ruolo di garanzia, quindi la presidenza del Consiglio regionale non un assessorato che li coinvolgerebbe direttamente nella gestione dell'amministrazione regionale a cui non vogliono far parte perché ritengono legittimamente di essere l'opposizione, essendosi candidati con un proprio presidente, aspirante che presidente, con la ricchia alla presidenza della regione non capiscono perché dovrebbero poi farne parte di questa giunta e quindi questa è la situazione di Stallo. Ripeto, poi l'altra possibilità è quella di mantenerla così, però la modifica, da quello che abbiamo capito, è una modifica dello Statuto, è una modifica abbastanza lunga, quindi i tempi si allungherebbero di molto e ci chiediamo se il fatto che la giunta precedente, quella di Vendola, era di 14 assessori, per legge sono scesi a 10, adesso sono diventati 7, per cui forse 14 erano troppi nella giunta Vendola, mi chiedo, e mi chiedo ancora, forse 7 sono troppo pochi per una giunta, per una complessità di una regione come la Puglia. Tanto le delle che mancano all'appello sono anche delle che sono abbastanza pesanti. E poi c'è l'altra cosa, sempre un'altra anomalia di questo strano avvio di legislatura di Emiliano, che è l'altra cosa di aver costituito una sorta di gabinetto di esperti che dovrebbero accompagnarlo nella gestione della macchina pubblica, che non si capisce bene cosa rappresenti, è un inedito nella storia della politica regionale e che quindi in qualche modo dovrebbero supplire queste mancanze, non l'abbiamo capito. Forse anche Emiliano sta procedendo, anche per lui è una novità, ormai è un politico esperto perché ha fatto il sindaco, ma fare il sindaco è un discorso, è un lavoro, fare il presidente della regione è un altro lavoro. Lui nello slogan della campagna elettorale si chiamava il sindaco di Puglia, è un slogan molto efficace, nella pratica questo è difficile perché il sindaco fa un mestiere e il presidente della regione ne fa un altro. Quindi credo che stia prendendo anche le misure e stia cercando anche di recuperare alcuni degli errori che in questa fase sicuramente ha commesso. Parliamo invece del Consiglio Comunale dove si registra una fibrillazione all'interno della maggioranza dopo il passaggio di Laria De Robertis dal Partito Democratico al gruppo misto. La De Robertis parla di un cortocircuito tra giunta e Consiglio Comunale ma il sindaco Antonio De Carlo l'ha rilasciato anche ai nostri microfoni, ha detto non mi faccio ricattare da nessuno e non annuncia alcun rimpasto. Sì, De Caro ha minimizzato questa fuoriuscita, noi l'abbiamo un po' evidenziata perché ritorniamo al discorso del malessere che si avverte nel PD in particolare a tutti i livelli, nazionale ma anche locale, per cui la maggioranza dentro del PD ci sono delle fratture su alcune questioni importanti, una su tutte qui è stata quella della scuola che ha tenuto banco le settimane scorse e il consigliere che è uscito da De Robertis ha fatto riferimento anche proprio a questo aspetto, cioè alla divergenza di vedute sulla questione della riforma della scuola e quindi secondo noi ha una valenza, un campanello d'allarme che suona anche per De Caro. Non cederà i ricatti evidentemente né il ruolo della consigliera è tale da poter immaginare chissà che cosa, quali smottamenti, però ripeto è un campanello d'allarme e De Caro che è un politico avveduto e anche una persona intelligente, ne terrà conto perché queste fibrillazioni come sono avvenute anche a livello nazionale possono poi degenerare. Allora, visto che siamo in chiusura, facciamo un passaggio perché immagino che lo leggeremo anche sulle pagine di Repubblica Bari domani sulla manifestazione Libro Possibile a Polignano, un vero e proprio palcoscenico della cultura nazionale. Sì, così conclude domani la manifestazione, stasera ancora in corso, poi domani è l'ultima giornata e domani è una giornata molto importante almeno per i giornalisti perché sono delle firme importantissime nel panorama internazionale dei nostri colleghi, uno fra tutti, lo cito perché oltre ad essere molto bravo e anche di Repubblica è il nostro corrispondente Federico Rampini che farà un... Molto simpatico tra l'altro. Perché lui ha creato uno spettacolo dai suoi libri, questo è dedicato, si chiama All You Need Is Love, è la canzone dei Beatles perché attraverso le canzoni dei Beatles spiega l'economia, quindi credo che sia molto affascinante anche per non addetti ai lavori, poi c'è Travaglio, poi presenterò io il libro del direttore del Sole 24 Ore Roberto Napoletano, poi c'è Lucia Annunziata, altri che adesso non mi ricordo ma moltissimi, quindi direi che quasi nel panorama di questa manifestazione molto importante, molto bella, che anche quest'anno ha avuto grande successo, l'ultima giornata sembra quasi, non so se l'abbiano fatta a posto o meno, ma è una sfilata di stelle del giornalismo che forse vale la pena fare un salto, a Polignano vale la pena sempre andare, ma comunque in questo caso ha maggior ragione se si è curiosi di sentire questi giornalisti che raccontano dei fatti importanti, interessanti. Non ne abbiamo parlato, ma sicuramente avremo modo di leggerlo domani, la presenza di Berlusconi oggi a Bari, in realtà è andato tutto come si aspettava, no? È stata molto mediatica come faccenda, nel senso che molto fumo e poco arrosto perché è arrivato, è stato pochi minuti, ha detto mi avvalgo della facoltà di non rispondere perché era legittimato a farlo, quindi tutta questa confusione, come sappiamo era stato il magistrato aveva chiesto l'accompagnamento 4, poi è stato revocato perché lui ha consentito di venire, tutto questo per sentirsi dire no, non vi rispondo perché sono imputato in un procedimento collaterale che quindi può non rispondere, poi le altre sono questioni più tecniche, più diciamo così da addetti ai lavori, per esempio il fatto che una delle due testimoni, una delle ormai famose, Barbara Guerra, doveva venire anzi mai presentata, il PM di Bari ha fatto fare la geolocalizzazione del telefono della ragazza per cui hanno scoperto che nel momento in cui i carabinieri sono andati a cercarla per portarla in tribunale, il telefono almeno era a casa ma lei non si è presentata, insomma siamo qui alle questioni più tecniche e anche più curiose di una vicenda che invece è una vicenda grave ma che chissà quando sapremo mai la fine perché è tutto ancora così molto vacuo. Allora siamo in chiusura di questo spazio, non mi resta che ringraziare Stefano Costantini caporedattore di Repubblica Bari, grazie Stefano per essere qui con noi, ci fermiamo pausa pubblicitaria e poi torniamo con altre notizie, tra poco. Non mi farò ricattare, il sindaco Antonio De Caro risponde al fuoco amico ed esclude rimpasti a poche ore dalle fibrillazioni nella maggioranza con la migrazione di due consiglieri nel gruppo misto. Giunta ad alta tensione, accolto dalle contestazioni il governatore Emiliano a Taranto per la prima riunione dell'esecutivo. La debole ripresa del mattone, il nostro focus con il presidente vicario dei costruttori varesi Beppe Fragasso che lancia l'appello, si snellisca la burocrazia per salvare le edilizie e l'occupazione. Tra Amar Corda e Tifo Biancorosso, il nostro live dalla nuova sede del club La Bari Siamo noi all'interno le fotografie che raccontano la storia del Bari. Rieccoci ancora in diretta con il nostro telegiornale, ripartiamo subito dal nostro live e mi collego con Cristian Siciliani in compagnia di un volto noto a Telebari. Cristian, buonasera. Sì Alessandra, siamo con il professor Gianni Antonucci, buonasera Gianni. Buonasera Alessandra, che blusa hai messo? Non la vediamo Alessandra, sarà come al solito impeccabile. Bellissima ragazza, bellissima ragazza. Comunque io sono felice di trovarmi qui anche perché tutto sommato è il mio covo il caso di dire, ci sono tante cose che ho offerto io a questo magnifico club La Bari Siamo Noi. Del resto la stessa parola, lo stesso termine dice tutto, non so se dentro di dire. Mi ha fatto piacere oltretutto perché nella presentazione sia da parte di Franco Spagnolo che per me lo considero al di sopra, anche di Pepino Cusmai perché effettivamente quello che sta facendo è il nuovo Napoleone della tifoseria barese, quando volevo sottolineare quello che ha riferito Gianluca Bavaressa non soltanto per gli acquisti che potrebbero arrivare eccezionali, quanto per aver fatto una denunzia, per aver fatto la denunzia per chi ha detto qualcosa di non vero sul conto del Bari. E questo è importante e dobbiamo andare avanti così. Nonostante la sauna, in questa sede stasera sono stato benissimo. Gianni grazie, grazie. Alessandra a te per i saluti qui dalla Casa Biancorossa e la Bari Siamo Noi. Ringraziamo Cristina Siciliani, ringrazio ovviamente anche il professor Antonucci. Intanto andiamo avanti con la pagina politica, non mi farò ricattare, non ci sarà nessun rimpasto e perentorio il sindaco Antonio De Caro che risponde alle voci che lo vedono in queste ore vittima del fuoco amico e sulla migrazione di alcuni pezzi della maggioranza nel gruppo misto replica. Ascoltare dichiarazioni da chi non si presenta in Consiglio mi sembra strano. Sentiamo. I giornali di oggi titolano la maggioranza perde pezzi, ieri l'abbandono di Laria De Robertis che passa nel gruppo misto e pare, almeno stando alle voci di Corridoio, che sia in forze anche la tenuta del Consiglio sul bilancio. Ma in realtà credo di avere una maggioranza bulgara, non so se ci sono altre città in Italia con una maggioranza così in salda. È chiaro che dopo le regionali ci sono delle fibrillazioni, non ci sono stati dei passaggi fuori dalla maggioranza, ci sono dei passaggi da un partito ad un altro, da un partito magari al gruppo misto, ma sempre con dichiarazioni di restare all'interno del perimetro della maggioranza. È normale che ci sono delle fibrillazioni subito dopo, ma anche subito prima delle tornate elettorali, l'ho detto più volte, io sono contento della mia maggioranza, non ho nessun problema. Se ci sono consiglieri che hanno da segnalare dei problemi al Sindaco, alla Giunta, lo possono fare. Bisogna però venire in Consiglio, bisogna venire alle riunioni di maggioranza, perché ascoltare dichiarazioni poi da chi non è presente mai in Consiglio o non viene alle riunioni di maggioranza mi sembra alquanto strano. Secondo alcuni molti premono per un rimpasto, ci sarà? Il rimpasto non ci sarà, l'ho detto più volte perché ho scelto la squadra, l'ho chiesto quando mi sono candidato, di scegliere la squadra e ovviamente non mi farò ricattare da nessuno. Ho detto più volte che sono disponibile anche a tornare a casa e ricandidarmi se è necessario, ma non mi farò ricattare da nessuno. Un autorevole confronto sul glaucoma e parliamo di sanità e sul suo trattamento terapeutico. Glaucoma Up to Date, il nome del convegno che si è tenuto questo pomeriggio a Bari, ce l'ha per noi Roberto Mangi, sentiamo. Un intervento tempestivo può garantire maggiore efficacia nel trattamento del glaucoma. Se ne è parlato a Bari nel corso del convegno Glaucoma Up to Date, organizzato dal dottor Franco Montrone, direttore dell'unità operativa complessa di oculistica dell'ospedale di Venere di Carbonara. Spesso, infatti, un'anamnesi poco attenta del paziente non permette di individuare la malattia allo stato precoce, un rischio non da poco se si considera che tra le possibili conseguenze di una mancata cura vi è persino la cecità. Ci sono varie forme di glaucoma, chiaramente, la più classica che è il glaucoma cronico dell'anziano, diciamo così, non ci sono sintomi. E questo è il concetto più importante perché essendo asintomatico può non essere riconosciuto, non essere sospettato dall'oculista neanche dal paziente e quindi essere diagnosticato quando già è tardi, quando i danni già sono manifesti, sono avanzati. Visioni di aloni colorati attorno alle luci, cefalea, questi alcuni dei sintomi possibili del glaucoma, in presenza dei quali è opportuno rivolgersi al proprio oculista di fiducia che valuterà la terapia più opportuna. Le terapie sono diverse, la prima è la terapia farmacologica rappresentata dai colliri, una terapia atopica per installazione. Poi quando questa non va bene si giunge, passando attraverso la laser terapia, anche la terapia chirurgica. Attualmente sta prendendo sempre più piede il concetto che il glaucoma sia anche una neuropatia e quindi sempre più entra nella sua cura la neuroprotezione, cioè dei farmaci che hanno lo scopo di proteggere il nervo ottico, le cellule nervose dai danni glaucomatosi. Cominceranno a breve gli studi sulle orme dei dinosauri nelle due cave presenti nel giardino di Lama Balice, questa mattina la presentazione delle attività estive. Vediamo. Spettacoli di didattica scientifica tenuti da esperti astrofili all'interno del planetario, osservazioni dirette del cielo stellato e del sole con telescopi professionali e ancora visite guidate diurne e serali soprattutto per le scolaresche, osservazioni serali aperte al pubblico di giovedì e venerdì e dalle 9 alle 13 ogni martedì. Sono solo alcune delle attività estive previste nel parco di Lama Balice, attività annunciate questa mattina in conferenza stampa. Ma le novità non finiscono qui. Confermati infatti i finanziamenti, 50 mila euro, per lo studio delle orme dei dinosauri sulle due cave presenti all'interno del parco. Tra qualche giorno la convocazione di sovrintendenza e università, presentato anche il nuovo sito. Adesso finalmente stanno arrivando a compimento delle situazioni come la conclusione del piano del parco che è uno strumento che ci aiuterà moltissimo nella pianificazione delle attività. Abbiamo messo a posto anche gli uffici, quindi la direzione del parco e altri tecnici che ci stanno adesso dando una mano importante. Poi abbiamo ripreso tutte quelle attività che i nostri cittadini anche in passato hanno gradito, quindi l'osservatorio, tutti questi campi scuola e tutte le attività di queste associazioni che sostanzialmente ci sono da supporto come sempre e che esprimono la passione che l'amministrazione ma loro hanno per questo territorio all'interno della città. Quindi la nostra speranza è sempre quella di poter arrivare a più cittadini possibili per farli riscoprire questa cosa. Ma la giornata di oggi è stata anche l'occasione per mostrare spot e reportage sulle bellezze del parco realizzati dai 15 alunni del corso di formazione in montaggi video e audio dell'associazione Dantea. E allora ci ricolleghiamo con il nostro Cristian Siciliani per l'ultimo collegamento, il caso di dire, del nostro ultimo live perché questa sera termina la stagione del nostro TG Live che riprenderà a settembre e da lunedì riprenderemo con il consueto nostro telegiornale dalle 20 alle 20 e 30 senza collegamenti in diretta. Allora Cristian, te l'onore di chiudere questa stagione del TG Live? Beh, assolutamente un onore, solo davvero Alessandra per i saluti perché i tifosi hanno abbandonato la nuova casa bianco-rossa, però ovviamente vorrei ricordare a tutti i nostri ascoltatori l'appuntamento con il ritiro bianco-rosso che seguiremo insieme a Salvatore Guastella per le due settimane del ritiro del Bari a Roccaporena. Dunque davvero un appuntamento da non perdere, soprattutto con i live in diretta nel corso del bianco-rosso TV Sport. A te la linea qui dalla nuova sede della Bari Siamo Noi. Ringraziamo Cristian Siciliani, ci saranno anche speciali all'interno del nostro telegiornale per documentarvi tutto quello che accade nel ritiro di Roccaporena. Dunque ci fermiamo, ma restate con noi perché dopo la pausa pubblicitaria l'ultimo focus di questa stagione lo facciamo con il vice presidente vicario del Lance Bari e Bat Beppe Fragasso con il quale parleremo dell'edilizia, come dare impulso all'edilizia e dunque all'occupazione. Tra poco.